Da qui intendevo, esattamente, da dove, dal nido di vespe, quello che schifo lì, no, non sono andato a prendermi le anime, perché, frega niente, ormai, non voglio potenziarmi, perché se vado più in là, dopo in pvp non trovo più nulla, almeno così penso, che posto da schifo, oh, così va meglio, non che a me nulla, devo ancora, mi sono dimenticato di darvi, di dirvi ciao, ciao, accoglienza, andiamo, facciamo fuori, non so neanche io se far fuori, oppure fregarmene, Mi fanno schifo, ah, no, 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 sono costretto che magari mi buttano giù, tipo, tipo questa è sparta, solo che, sparta ghiacciata, tac, no, le mie, le mie skill di, di, lo scorso episodio avete visto, vabbè, ma però, eh, ma, ma però, avete visto le mie skill da, da pvp, e avete visto come son finito bene, però, non ci prova, e mi son buttato da solo, Io non l'avevo vista questa cosa qui, e cos'è, ruota la novella, adesso cambia il mondo, il mondo esplode, arriva, sale dal potere Hitler 2, e, tutto prevede una leva, ed è successo, allora, si è aperto qualcosa, questo, questo, sospettavo anch'io, e se giri una roba, si spacca un'altra, Ah, e cos'è, gli ho, gli ho, gli ho rotato lo sgabello, non lo so, eh, madò, con che lentezza, eh, Cosa c'è? Ah, ho la, che, che, quella, quella statua dalle dubbie, ah, ho capito, ho capito cos'è, era la statua di quella lì, se uta, che non fa mai niente, che se la colpisci sparisce, di quello sopra, che dipinge robe che fa schifo, e ho girato la statua, Ora, si sposta il cassone in avanti, e sotto c'è lo scomparto segreto dove mettono la cantina di vino, o almeno così io farei, Sì, allora, in quello lo scomparto segreto ho indovinato, però non so se è della cantina, andiamo, Di qua, di qua, di qua, niente, leggi messaggio, leggi messaggio, ti ho detto, falo più avanti, grazie, mi serviva lo scorso episodio, non questo, Allora, siamo, siamo sulla torre di, di niente? Allora, non vorrei che fosse quello che penso, ma vediamo. Puttana vostra madre, lo sapevo, sembra lo stesso pu, mi deprimo, dove, come si si deprime? Come si si deprime? Dov'è? 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 Eh, mi deprime, dimmi qualcosa, tu dimmi qualcosa, prima che ti colpisca con questa, spada giocattola, Ah, ti avverto, avvertimi! E scompare, giustamente, ma cosa devo fare? Che cosa devo fare? Vediamo un po' se c'è ancora, ci sei? Ci sei? Oh, che peccato, è vero, ti ho ucciso. Pu, mo, e se fosse questa qua di nuovo? Non è d'essere, se vi era qualcosa quel prodotto dipinto, in mezzo al vuoto. Andiamo, 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 dimmi, Trovato! Chi sei tu? Ah, il piccoletto, quel piccoletto, non tanto piccoletto, è che, è Rapunzel, sei tu? Tu sei un po' se c'è, tu sei un po' se c'è, con il piccoletto, è un po' se c'è, è un po' se c'è, un po' se c'è, un po' se c'è, un po' se c'è. Ma prima cosa devo vedere la flamme. I wish to paint a picture Of a cold, dark and very gentle place One day It will make someone a goodly home That's why I must see flame I wish to paint a picture Of a cop one day, that's why Va bene, ma, un rapper ammogliatore, yeee Ce l'ho dato, no Aspetta, così ce l'ho dal sole Esatto Prese sun Tu non mi dici niente? Ah, sì, io gli ho appena parlato Ma non ho ancora capito Che sia No, no Non è che le pareti di usore si sbloccano così dal nulla Ma io, che devo fare? Non è che c'è un boss qui? Boss Mi sembrava, mi sembrava simile la zona del boss O almeno così sembra Ha detto, voglio la fiamma Eeeh Ecco qui la fiamma Tieni Tieni quel che vuoi Una torcia di me Qua vedo, vedo tanti di quei cosi che Andiamo qui Viaggia No, viaggia no Eh, però non è respawnata, allora Allora, fregati Prego niente Ho scoperto però una cosa veramente euforica Ecco qui, voglio dimostrarvelo Qui ai vostri occhi La cappella di Areanel Che prima era al terzo posto Ora è scesa al quinto posto Oh mio Dio Formula 1 Rainbastered Ed eccoci Qui Dato che penso che ci sarà un boss Meglio cambiare lo scudo in Scudo bello Non so neanche io su cosa concentrarmi Vado a metà Così Non so neanche io su mettere fuoco Ah già dimmi qualcosa E' enesima Enesima roba Inutile Che Cosa è successo Cosa è successo Cosa ho fatto La frusta Portatemi la frusta Aiuto Perché non mi senti Magari è sorda Che ne sei Presto Aiuto Scappo Non so scherzando Io non scappo mai Davanti a nulla A parte A parte Niente A parte la gente Che c'è su Coda Che mi spara Ma Io mi sto avvicinando Ma a cosa Bel lavoro E qua Che le fiamme Ti guidino Grazie Ah ce l'ho fatta Che devo Parla Parla anche Io devo ancora capire Cosa Dannazione E' questa roba Non so se è un umanoide Un Uno schi Quello è una testa Fin qua ci siamo No 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 Il fuoco Che è un uomoide E' un uomoide Che si è Buon kunioide Che c'è E' un uomoide aiuto si è alzata dallo sgabello aiuto una falsa in mano io cosa devo pensare perché mi ricordo di Assassin's Creed non lo so non lo so forse perché ho un cappuccio in testa sorella Friede io sono un fratello se è scritto sorella Friede oh perché hai la falsa in mano cos'è sta cattiveria no l'ho quasi backstab io avrei un po' di paura ahia e uno vabbè il padre che è il primo ma il padre lo posso colpire da dietro davanti dietro non lo so qua veduto è sparito sono sono disorientato ma poi resusci allora o è talmente forte che non lo puoi nemmeno colpire oppure resuscita perché non può non può avere così poca vita ah è vero pensavo ma va sta ferma che devo se io ti faccio un backstab devi stare ferma perché l'animazione cosa fa ho visto ho visto un cespo un ciospo che un ciospo di neve che io nel dubbio faccio aia mi ha preso non usare colpirmi finché bevo l'estus tu non puoi fare nulla e oddio mi ha shotato questa ha fatto male questa volta però l'arcopia amante me lo faccio e che la prendo lì di nuovo voglio vedere se si può fare un peri oppure no è un brutto momento perché c'è un momento e una cosa per eeeh si c'è un momento e un e un luogo per ogni cosa ma non ora citto e professor bastardo quello lì no no quella quella eh eh l'ho detto io quella mossa aveva cattiveria no di nuovo cattiveria dai dai salta salta oh maledetto ah fa male il fuoco eh fa male beh lo sapevo eh mi sarei stupito se non avesse fatto male è andata da qualche parte da qualche parte allora se ci pre esattamente come si fa in come si fa in tutto dark souls 3 schiva a caso allora se salta nope eccola lì tac due mi sa che non allora se si rigenera sono cazzi miei ma ah oh è già a metà vita ah ho imparato le mo stai zitto sta eh e ho finito ah no avevo finito la stamina mi sa che era meglio vabbè ma allora io mi io io vado a colpire lui non lo so cosa si fa in questi casi rotolone eh ti ho detto io che funziona sempre e tranne in questo devo bere grazie sponsorizzazione fanta caricata e mi ha falciato sia in tutti i sensi eh sia con sia con la falce sia con i piedi ah ti ho visto stavolta no e sono io che faccio anche un po' cagare nello schimare le falci non non ho mai visto nessuno usare le falci in pvp questo qua mi sembra un pvp un po' più avanzato eh ah non fa i critici beh quello va bene meglio bere un po' di estus sorella ah ti ho visto allora ha fatto uno scatto di là però da dove oddio ah crolla fine non può essere già finita no dai no non può essere già finita com'è cinque due minuti è durata o sono io che ho detto che ho imparato a schivare quindi tac fine oppure oppure io credo che dobbiamo affrontare lui ma non ne sono sicuro perché parlo durante un video perché se nessuno parla parlo io va bene ok ah ah sono disperato aiuto faccia verde è junior no scusate piccolo per quelli che elengono i manga non per quelli che guardano oddio cos'è è diventato epilettico ha fatto una roba simile e ora ah che 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 cos'è sta roba ma che cazzo non so se essere contrariato stupito ho un misto di emozioni che non posso capire tranne felice allora ha preso ha preso il com'è non ho capito neanche io cosa è successo seriamente eh ma solo che ha preso tutto fuoco e lei è morta appunto non torna in vita ok 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 oh cazzo aiuto ho detto io eh sono tornati in vita più forte di prima ti prego dimmi che non è quello che penso è quello che penso o magari entra nel pentolone e basta non so eh magari no ti no non dirmi che cazzo io cosa avevo detto basta ora soleire guida la mia ma soleire non mi serve più io che devo fa due due sono due due padre ah ariandel è un maschio io pensavo fosse lei c'è ariandel ariandel ora so chi è chi è ariandel ceneri di no 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 il pentolone in mano pezzo di merda e come faccio qui io enesima volta mi sono già stancato è già un congelamento alle stelle yeee che vita di ah lui si è già incazzato è vero vabbè era incazzato già da prima e basta tirarmi i pentolati che cavolo ma se colpisco prima lui quanti danni li fa beh oddio oddio dire quanti danni li faccio ma ma per ah la sedia è incollata ma quanto ci si è rimasto seduto questo qua questo qua per me era seduto tranquillo a giocare ad axus 3 e ha cercato anche lui ci ha messo così tanto a finire questa boss fight che che gli è rimasto incollata e vabbè gli è rimasto incollata la sedia ora a chi devo badare vabbè nessuno dei due perché tanto sono morto o no falsa e spera doppia estus l'impressione di aver recuperato vita ha recuperato voi due siete dei veri fili di puttana eh ammettetelo ammettetelo beh aspetta sta recuperando vita bestia io l'ultima era una una sberla non era una io ci io ci vado sotto e allora è ovvio che muoio no allora che devo guardate la vita la loro vita come è scesa io l'estus loro no da quando ho capito dobbiamo badare al gigante che è il più debole dei due e già tacchete fanculo il congelà cosa avevo detto per caso eh vabbè girati piano piano eh sì girati piano sto formulando frasi di senso scompiuto adesso quello là mi tira una ah no giù leggermente e qua c'è ancora sangue di lei che che era morta ma è resuscitata perché perché boh no no vai 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 sì sono felice prese sun sono morti entrambi sono morti entrambi ah beh lei la seretità ah non mi è dato neanche l'anima cazzo ma da ma che sta succedendo ma cosa sta succedendo porca put io non si eh no no ti prego non dirmi che devo ah una ah due doppia falce ma cosa sei cos'è da dove è uscito sto personaggio io non so chi va dare ma chi è che parlava non era lei a parlare non era allora sono sicuro sono sicuro di allora sono insicuro di tutte le cose di sto mondo ma sono sicuro che non ha parlato lei e cazzo però fiamma nera è stato Willem a parlare ecco chi c'è sono l'abilità di uno e l'abilità del dove cazzo sei andata ti ho vista ah ti ho vista allora finché non le vado vicino non non si non si rivela eh finché non le vado ci sono andato vicino canto che ci sono andato vicino è il conciutamento tac tac non dimmi che devo rifarmeli tutte e tre attaccate allora ti prego spero spero che non devo rifarmeli tutti ti prego dai fa non farmi rifare non farmi rifare non fa non fa non ce la faccio più quando le cenere si senti senti puoi andartene a fanculo mi sono rotto le scatole di sentirti anche se l'ho sentito una sola volta tre volte tre volte non leggo neanche più perché ormai aspetta e il colpo mi arriva ok il primo l'ho schivato un po' tipo eh no eh no schivare tutta la prima combo e che cavolo è sta un backstime me lo puoi concedere brava almeno uno no allora io direi non so se dirvi state dove è andato aha ti ho vista ora va qua no 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 tu non fai la super combo cattiva che che no aspetta questo qua è il serpente di fuoco questo qua è il serpente di fuoco io lo so schivare benissimo che strano che ecco ecco non usare colpirmi ok te lo concedi no fanculo non concedo più niente ah cavolo ah gli sono lasciata la scia dietro colpisci 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 dico io direi due colpi ma io ho voluto fare il cazzo anche uno se volete e e mi sembrava e mi sembrava strano ho detto oddio ho scrivato una combo ma sto cazzo che scrivi una tu io che scrivo una combo ma va cagà dove in quale mondo ah però 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 ne abbiamo tolto tanta vita tantissima vita tantissima vita dai che va non fate gli arafo così non fate gli arafo nì ho vinto animo di sorella non ho la forza di parlare sii bella boss fight sono 144 mila anime porca putt ah però c'è ancora un po' no non è finito quale episodio col cazzo finiamo il gioco direttamente eh sì il gioco ideale si io e questo cos'è oh ho una vaga idea di cosa dovrei fare adesso e credo che lo sappiate anche voi dobbiamo andare dal piccoletto e dare di la fiamma probabilmente sì sì andiamo dal piccoletto diamogli la fiamma penso non sono sicuro ah che peccato che non ci sei più cazzo peccato fan cu pu finiamo questo contorto con questo contorto di lc su 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 oh mi stavi aspettando credo di sì lo so che la vedrai aspetta allora non credo che il dlc finisca così ma forse allora io faccio una prova vado me ne vado e torno così vedo cosa cambia dimmi qualcosa si riesce oh io non vedo non vedo altro lì non c'è il cappello non ho visto il cappellino da pittore che ha in testa dunque sì fai abbastanza schifo da pittore davvero e ah già non ho la torcia vabbè faccio luce così faccio luce così oh vedete che c'è un po' di almeno un minimo di luce almeno così l'ho usato come torcia vabbè e il dlc finisce qui io dico ufficialmente perché non vedo tre robe quindi quindi il dlc finito e niente così è stato un dlc un po' non lo so forse il più strano di tutti al posto di in quelli tipo darksus 2 o anche gli altri ci sono due o tre boss separati qua hanno messo tre boss tutti attaccati ma presi singolarmente fanno un po' caccare singolarmente ammettiamolo sono un po' scarsi singolarmente però messi tutti e tre in una botta sono abbastanza difficili dico abbastanza perché non mi ha fatto lanciare le joystick sul muro quindi non è stato complicatissimo al massimo dopo questa recensione di 11 secondi vi dico spero che seguirete le altre serie e no questa qua è finita si spero che seguirete le altre serie e ciao a tutti no no finchè non saluto col cavolo che venne andate convoca 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 no non è convoca dov'è calma determinazione eccolo qua eccolo qua e niente ciao a tutti seguite tutto il resto tutto quello che c'è che non finisce mai tanto che c'è